Quali sono i prossimi obiettivi nell'ambito della medicina di genere? I prossimi obiettivi per lo sviluppo della medicina genere specifica sono quelli di raggiungere in maniera trasversale tutte le aree mediche ed anche tutte le aree scientifiche, promuovendo la ricerca di nuovi trattamenti, di nuove cure, di nuove modalità diagnostiche delle malattie, delle condizioni di salute e delle condizioni di malattia delle persone, sia uomini che donne. Andare avanti nella medicina vuol dire appunto tenere conto delle specificità del genere, tornare indietro vuol dire dimenticarsene.